ciao a tutti ragazzi siamo Reppy e Molly e oggi faremo i balli di Fortnite ragazzi per questo video lasciate almeno mille like e votate chi farà il ballo migliore perché il perdente farà una penitenza che scriverete proprio voi nei commenti ok Reppy facciamo sasso carta forbici eh ma allora sasso carta forbici no vinci te vado col primo ballo ragazzi vediamo un po ok questo non è difficile eh siiii votatela Reppy ok ragazzi adesso tocca a me dovrò fare il ballo di Marshmallow via vai Molly che DJ molly ok basta Fessimo ok ragazzi tocca di nuovo a me vediamo il prossimo video aiuto yeee come com'è Molly ma insomma dai è carino sta vincendo l'altro personaggio fai Molly ok ci proviamo eh questo è un 10 allora Reppy visto che hai perso te adesso devi fare il loser ehi no cosa si fai il ballo del loser 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 non è molto difficile eh ahahah loser tra l'altro ragazzi ci stanno massacrando le zanzare si stiamo avanzando aio ehi ehi prossimo ballo questo sarà molto semplice infatti l'altro sarà molto semplice infatti l'ho scelto io vai ahahah cos'è un lebrotto che salta ahahah ahahah bravo Molly ragazzi un applauso per Molly eh ahah ahaha prossimo ballo questa come si chiama Papudans non lo sappiamo vai via paparapapapa paparapapapapapa orribile 2 ma no non c'era quello questo nuovo ballo speriamo che i creatori di fortnite lo scelgano Ragazzi chi sta vincendo per ora? Io vero? Io Sì sei molto bravo a fare i balli di Fortnite devo ammettere È arrivato il Natale Ragazzi quest'ultimo ballo lo faremo insieme è il ballo di lasciare i like a questo video Lasciate tanti like Ragazzi per oggi da noi è tutto ci vediamo alla prossima video Ciao 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 Ciao